Quando funziona la relazione con un uomo sposato? Quando non vuoi che lasci la moglie, non ti frega niente che lasci la moglie, quando non hai la speranza che ti ami e quando non lo ami, è fondamentale che tu non lo ami e che non speri di essere amata. Quarto punto, quando ti vuoi vivere semplicemente una trasgressione senza nessun problema, perché i problemi se li smenazza con la moglie, a fare la spesa al supermercato ci va con la moglie, le vacanze le passa con la moglie, fa tutto con la moglie, a te ti vede una volta ogni X tempo da qualche parte e cerca soltanto di puntare a far sì che questo qualche parte sia un posto carino e non sia semplicemente il parcheggio del cimitero. Metti un like e con l'abbonamento base segui tutti i miei seminari. Mi raccomando, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!